Buongiorno a tutti, mi trovo a Napoli, in via dei Madaluni, adiacente a via Toledo, la bellissima via Toledo. Bene, se siete curiosi di sapere di che cosa vi voglio parlare, allora, aio, beniga di conto. Non posso urlare perché è mattino presto. Come dice Mario, io normalmente urlo, invece vi avrei dovuto dire non posso parlare ad alta voce perché è presto, sono le otto e mezza appena passate, e ancora qualche ospite di questo bellissimo palazzo dorme. Questa è la sala della colazione, stiamo aspettando che arrivi, ma sappiamo già che sarà buonissima perché abbiamo già colazionato ieri. Aspetta che mi piaccia usare questa parola. Laggiù c'è Mario che mi sta aspettando. Volevamo ringraziare sia Susi, che ci ha servito la colazione ieri e che la sta preparando oggi, sia Fiorella, la proprietaria di questa bellissima residenza, perché desideravo tanto stare qua al centro e abbiamo realizzato questo sogno. La ringrazio anche per avermi consentito di utilizzare il pianoforte. Eccolo qui, lo vedete? Bellissimo. Io ero fuori allenamento, facendo una stante e sono riuscita a suonare il mio pezzo. Scritto per me dal mio insegnante Antonio Zanda, che ha semplificato al massimo una decina di anni fa per potermi permettere appunto di suonarlo. Scritto per me dal mio insegnante.